Ciao a tutti Screen Geekers e buona domenica! Dopo una settimana faccio ancora fatica a riprendermi dalle emozioni del finale di stagione di Game of Thrones. Pensare che mancano solo 13 episodi alla fine di questa serie... Mi fa stare male. Qualche settimana fa in un video vi avevo accennato ad alcune teorie che poi sono state confermate anche dagli stessi sceneggiatori. Questa volta invece volevo fare un po' il punto della situazione su quello che è successo fino ad ora e su quello che potrà succedere magari nella settima stagione. Ah ovviamente se siete rimasti indietro e non siete aggiornati non guardate questo video grazie. Spoiler! Partiamo con uno dei personaggi più amati e odiati, soprattutto odiati della serie ovvero la regina Cersei. Cersei l'ha fatta grossa. Dopo aver sterminato una buona parte degli abitanti di Aprodo del re con l'alto fuoco e dopo la morte di suo figlio Tommen che si è buttato giù dalla torre e manco fosse Brenn, si è seduta sul trono di spade. Arriva Jaime e la guarda un po' male. Non sembra apprezzare molto la situazione. Quindi si suppone che forse ci sarà una rottura o un litigio, un diverbio fra questi due personaggi che si erano tanto amati fino ad ora. Infatti non lo so quanto possa essere possibile. L'amore di Jaime per la sorella è abbastanza forte da poter sopportare tutto questo? Vedremo. Inoltre Cersei fino ad ora si è dimostrata docile come una bestia di Satana. Tuttavia però aveva anche un lato umano che era l'amore per i suoi figli, questo amore immenso. E adesso? Cioè, quale tipo di Cersei vedremo nella prossima stagione adesso che non ha più i figli? E quindi anche l'ultimo briciolo di umanità in lei è stato distrutto. Quasi sicuramente tornerà a essere uno dei cattivoni principali dopo che comunque nelle ultime stagioni Ramsay Bolton le aveva un po' rubato la scena, no? Adesso che Ramsay è stato fatto a pezzettini, rimane lei. Per fortuna il suo caro fratellino Tyrion sta tornando a casa e ci sono speculazioni anche su di lui. Abbiamo scoperto che non è vero figlio di Tywin Lannister. E quindi si dice che sia nato dall'unione di Joanna Lannister e Aerys Targaryen, ovvero il re folle che ha abusato di lei. Questo spiegherebbe un po' il feeling con Beneris. Comunque i due uomini dei Targaryen stanno solo a fare dei casini, per favore se ne si riferisce, mi rapiscono donne, fanno bambini. Oh! Sul fronte Nord HBO ha confermato la teoria dei genitori di Jon Snow. Quello che non sapeva niente e poi alla fine si è ritrovato re del Nord, no? Però anche caro Jon non c'ha poco da festeggiare perché la donna rossa se n'è andata e con lui anche il signore della luce. E i White Walkers sono alle porte e quindi la battaglia è imminente. Cosa succederà? Non lo so, non posso aspettare un anno. Speriamo magari che Sam, non lo so, fra tutti quei libri trovi un'arma super mega potente contro i White Walkers. Perché comunque adesso ce lo troviamo lì da solo nella biblioteca della vecchia città e un'utilità la deve avere questo personaggio. Su Sansa e Dito Corto ce ne sono tanti da dire. Vabbè, Sansa ha fatto un bellissimo percorso, adesso è diventata un personaggio accettabile e non vuoi più lapidarla praticamente quando la vedi. Ha chiesto aiuto a Dito Corto che però l'aveva venduta ai Bolton. Quindi Sansa ascolta, tu prendilo lì, gli dici grazie mille per il tuo aiuto, gli dai un cesto di frutta e lo rimandi a casa sua. Perché questo qua sta stramando delle cose che non ci piacciono, eh? Non ci piacciono. La piccola Arya invece è ormai una serial killer professionista con la passione per la cucina. Chi sarà la sua prossima vittima dopo Walder Frey? Ho goduto troppo in quella scena. Io personalmente però gradirei vedere anche una riunione di famiglia con tutti gli Stark ancora in vita. Nonostante tutto ci tocca aspettare un anno, mannaggia, però io muoio di curiosità. Secondo voi chi è che merita veramente il trono di spade? Io dopo questa stagione non ho dubbi. Lianna Mormont.